Prima di accedere alla webmail PEC, assicurati di aver attivato la verifica in due passaggi sul tuo account PEC e di avere a portata di mano il dispositivo associato alla verifica in due passaggi. Sei pronto? Ora collegati all'indirizzo webmail.pec.it. Inserisci l'indirizzo completo della casella PEC, la password e accedi. Sul tuo dispositivo precedentemente associato, riceverai la notifica mostrata. Se non l'hai ricevuta, devi attivare la ricezione delle notifiche. Per farlo vai nelle impostazioni del tuo dispositivo, tocca Notifiche, Aruba PEC e attiva la funzione. Le impostazioni possono variare in base al dispositivo in tuo possesso. Una volta ricevuta la notifica, aprila e tocca Autorizza per confermare l'operazione di autenticazione. Convalida l'operazione attraverso il sistema di protezione del tuo dispositivo. Conclusa l'operazione di autorizzazione avrai accesso a Webmail PEC.